Ci occupiamo di feste, anche di tutto il contorno, sia per quanto riguarda i privati, sia per quanto riguarda le aziende, i centri commerciali. Abbiamo deciso di mettere insieme la nostra esperienza di oltre 15 anni a testa e di provare ad iniziare questo nuovo cammino. Fondamentalmente cerchiamo di divertire divertendoci. Il gruppo Manamana arriverà sui canali di TV1, in particolar modo su TV1 Donna. Con che programma? Cosa farete? In realtà non lo sappiamo. Abbiamo appena iniziato. Stiamo cercando dei bambini volenterosi che abbiano un'energia e soprattutto ci dicano loro cosa fare a noi. Cioè noi stiamo dicendo appunto i casting, anzi se siete bambini dai 4 agli 8, 10 anni, scrivete a infomanamanachiocciolaiau.it e venite, venite, venite e diteci voi cosa fare. Sicuramente ci divertiremo, ok? Ci sarà musica, ci saranno spettacoli, c'è tutto il meglio delle tante feste che abbiamo fatto insieme. E poi appunto diteci voi cosa fare ai bambini, vi prego, vi prego. Puntiamo molto a far rinascere quello che era una volta il vecchio programma per bambini TV, che ora purtroppo non si usa molto più, non va tanto più di moda. E' solo porta a porta. Esatto, che potrebbe essere anche quello divertente per un bambino fino a un certo punto. E quindi un po' sulla calchiamo l'onda di quello che era storicamente il nostro bim bum ban, oppure solletico, non so se ce li ricordiamo noi. E quindi cerchiamo un po' di riportare quel format lì, bambini con noi in TV che proveranno a divertirsi e a farci divertire, con giochi, momenti di arte. Ci saranno delle squadre di bambini che giocheranno tra di loro, si contenderanno la squadra migliore della puntata. E poi adesso non vi svegliamo tutto quanto, vi lasciamo anche un po' il segreto. Il pulcino Pio, una legge europea è vietato in televisione far vedere il pulcino Pio, quindi non vi preoccupate mamme, è un luogo sicuro per i vostri bambini. Soprattutto puntiamo meno cartoni e più attività.